Allora siamo con Ramiro Torres, intanto Ramiro, complimenti per questa partita. Muchissima grazie, grazie mille. È stata una partita difficile veramente, è una pista molto complicata. Il tuo futuro Ramiro è anche il futuro delle Breganze? Sì, il futuro delle Breganze Serie A. Io voglio stare un anno di più qua in Breganze. Vediamo alla fine che facciamo. Complimenti alla tua tifoseria. Grazie mille.